John Borno ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare, come posso dire, fare il punto su quella che è la situazione attuale del Milan. Parliamo del Milan, necessariamente bisogna andare a trattare il Milan. Perché? Perché è il momento. Perché pare che il Milan, secondo varie testate giornalistiche, avrà in qualche senso 100 milioni da spendere sul mercato. Ma adesso vi spiego in che senso avrà 100 milioni da spendere sul mercato e vi spiego che cosa intendo dire. Innanzitutto partiamo da un presupposto importante. In questo momento mancano circa due giornate, no circa, ma che cazzo era la dico oggi? Mancano due giornate alla fine del campionato. Il Milan deve difendere il quarto posto. Il Milan è praticamente in Champions League e servirebbe un mezzo miracolo al contrario per non andare in Champions League e sarebbe anche una figuraccia tutt'altro che accettabile. Il Milan probabilmente dopo la penalizzazione della Juventus andrà in UEFA. Se il Milan dovesse prendere la Champions League allora potrebbe davvero provare a fare un calciomercato per vincere il prossimo campionato. Quindi tornare lì dove era stata appena un anno fa e che quest'anno è stata spodestata dal Napoli. E per me, per il livello del Milan, per il fatto di avere già una rosa molto interessante, c'è tutte le possibilità del caso. 100 milioni, che lo dice la Gazzetta dello Sport. Ovviamente 100 milioni da considerare per le manovre di mercato. Il calcolo è la somma tra i risparmi sugli ingaggi in caso di gestioni e previsioni del budget. Però questo è quello di cui parla la Gazzetta dello Sport e quindi vi sto parlando di qualcosa di cui parla la Gazzetta dello Sport. Andiamo a cercare di capire di che cosa stiamo parlando e perché il Milan dovrebbe di fatto provare a spendere questi soldi e come il Milan andrebbe a spendere questi soldi. Insomma, mettiamo una pietra per quello che potrebbe essere il Milan di domani. Ma prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi invito caldamente ad iscrivervi al canale e a lasciare tantissimi mi piace. Arriviamo entro stasera appunto a fare lo step e quindi me li dimentico sempre. A quanti iscritti siamo? Arriviamo a 64 mila iscritti entro stasera. Mi raccomando se volete supportare questo canale. Detto questo, si parla di Teo Hernandez, Tonali, Ciao, Leao, che sono tutti calciatori under 25. Perché? Perché il Milan ha di fatto costruito un'ossatura forte, importante, impattante per la stagione attuale. C'ha tantissimi giovani, c'ha un botto di ragazzini, questi sono tutti under 25 e da qui il Milan riparte. Qual è stato il problema grave del Milan? Il problema grave del Milan sono state le seconde linee, che è poi grave. Diciamo che alla fine dei fatti il Milan prenderà probabilmente la Champions League e sarà arrivata in semifinale di Champions. Quindi la stagione del Milan è stata ottima, però è stata ottima anche grazie all'aiuto divino. Nel senso che io credo fortemente che se la Juventus non fosse stata penalizzata, il Milan difficilmente sarebbe andato in Champions League. Per me il Milan non sarebbe andato in Champions League, l'anno prossimo avremmo parlato di un Milan in Europa League che avrebbe dovuto ridimensionare di fatto le sue qualità. Invece con il Milan in Champions tutto cambia. Tutto cambia, Leao rimane, Tonali rimane, Tonali sarebbe rimasto lo stesso, Teo Hernandez rimane, Ciao rimane. Insomma, è una situazione completamente diversa. E parliamoci chiaro. Ci sono tanti calciatori del Milan, seconde linee, che quest'anno hanno floppato. Hanno floppato. Vi faccio l'esempio di Orighi. Orighi, ragazzi, è il più pagato Conte Fernandez del Milan. Ha fatto malissimo. In un anno verrà pagato 5.2 milioni di euro. Cioè, ci rendiamo conto. Lui ha fatto pochissimi gol. È vero che l'hanno preso a parametro zero. È vero che l'hanno preso a parametro zero. Però veramente, ragazzi, lui quanti gol ha fatto? Due gol? Due gol ha fatto in tutto l'anno. Due gol. Cioè, praticamente, lui lo pagano 2 milioni e mezzo per ogni gol che fa quest'anno. Sì, ripeto, è stato preso a parametro zero. Ma ha dimostrato, almeno per questa stagione, di non essere pronto. Poi, chiaramente, rivedrete questo video tra un anno e mi direte Vabbè, sicca, che dicevi Dioricchi che quest'anno ha fatto 18 gol? Ok, però, ad oggi, sicuramente ha fatto male. E addirittura adesso pare che, visto che ci siano squadre di Premier League, di Super League Turca, su di lui, il Milan potrebbe anche cederlo, fare quei 6-7-8 milioni di euro per risparmiare qualche spiccio e poi andare a capire gli altri. Io avevo già parlato della situazione Milan in un video. Un altro nome che deve, senz'altro, andare è Serginio Dest. Serginio Dest, in questo momento, non può rimanere al Milan. Ma, semplicemente perché, secondo me, Serginio Dest esploderà. Io, vi ripeto, io a Roma me lo prenderei molto volentieri. Io credo che sia un calciatore di futuro certo. L'ha dimostrato con la maglia degli Stati Uniti. L'aveva dimostrato anche prima di arrivare al Milan. Però, raga, Pioli non l'ha mai fatto giocare. È inutile che il Milan decida, a caso, completamente a caso, così, d'amblè, di tenere un calciatore come Serginio Dest. In questo momento sarebbe inutile. Anzi, vai a risparmiare quei 5 milioni dello stipendio e lo rimandi al Barcellona. Poi c'è il discorso relativo a Bagaioco, di cui abbiamo già parlato. Quindi, a centrocampo partirà Bagaioco. Probabilmente andrà via anche Ante Rebic. Non verrà riscattato Franks. E poi i portieri. Tata Lusano, Mirante, Balloturema, anche Adli. Zlatan Ibrahimovic potrebbe andare via. Insomma, il Milan deve rivoluzionare completamente la squadra. E questa rivoluzione come avverrà? Allora, io a questo punto mi vado a prendere la pagina del Milan, dove c'è scritto appunto tutto il Milan, ed eccolo qua. Io vado a vedere la formazione del Milan e io ragiono un attimo su come fare e su quello che il Milan farà. Innanzitutto, io credo che in porte il Milan sa già quale sarà il suo futuro. Andiamo a fare un'analisi rapida. Che non è un mercato che farei, che faremo a fine campionato, però è un'analisi rapida. Ecco, Maignan per me rimarrà il titolare. Forse il Milan andrà a prendere un vice. Per me questi devono andare via tutti, da Rusano a Mirante, Vasquez, Davis Vasquez va bene come terzo, ma il Milan lì un secondo lo deve prendere. L'unica cosa che non so è che si parlava di Sportiello, però poi ad onor del vero Sportiello, regà, adesso sta giocando con l'Atalanta, quindi non vorrei che invece che andare a fare il panchinauro al Milan decida di rimanere per fare il titolare all'Atalanta, soprattutto se la Dea riuscisse a prendere una competizione europea, che sia Champions Europa, Conference League, insomma, potrebbe pesare come cosa. Poi per la fase difensiva, come vi dicevo, il Milan è ben coperto. Cioè, Tomori, Calulu, Ciao e Kier. Io penso che Gabbia probabilmente andrà via. O andrà via in prestito, o andrà via definitivamente, ma tanto quest'anno, a Pioli, ma anche negli anni spassati, non ha mai dato l'idea di puntare fortemente su Gabbia. Cioè, quindi, tenerlo non avrebbe lati positivi in questo momento. Tenere Gabbia sarebbe una cosa inutile, che farebbe, a mio avviso, anche male al ragazzo. E visto che la Gazzetta parla di questo budget, che comunque alla fine tra ingaggio, quella e quella, secondo me, è una 50-55 milioni di Milan dispenderà sul mercato per rinforzarsi, allora facciamo queste analisi qua. Sulla fascia sinistra il Milan deve trovare un panchinaro. Ora, io non so chi sarà questo panchinaro. Si sono fatti dei nomi. Dopo andremo a fare tutti i nomi che si sono fatti del Milan. Quindi andremo anche... Cioè, sono veramente un botto. Andremo anche ad analizzare tutti i nomi del Milan. Però, comunque, in questo momento i rossoneri devono capire che cosa fare della loro vita. E io penso che un terzino a sinistra vada preso. Teo Hernandez è perfetto, ma Balloture non va bene come vice di Teo Hernandez. Mentre a destra, credo che un altro vada preso, che si alterni tra la titolarità e la panchina. Calabria è il capitano di questo Milan. Anche se vi posso dire, nonostante sia un buon giocatore, per me non è Teo Hernandez, ad esempio. E poi, tra Serginio Desti e Florenzi, uno è sempre rotto, l'altro non gioca mai. Quello che è sempre rotto, ovviamente, è Florenzi. E quindi, insomma, si fa fatica a credere che questi due calciatori possano, in qualche modo, rimanere al Milan. Poi, a centrocampo, il Milan è messo Benino. Benino perché c'è Benazera e Tonali. Però Benazera è rotto, fino all'anno prossimo. E quindi il Milan deve capire che cosa fare. Bagaglioca tornerà a casa. Pobega per me è buono, così come è buono Krunic. Però Pobega io lo vedrei molto meglio sulla tre quarti, lo vedrei. Se vi posso dire la verità. Cioè, lui comunque, ve l'avevo già detto, a Pordenone, così come al Torino, giocava in posizioni più avanzate. A Pordenone in B faceva quasi il falso 9, la punta. E al Torino giocava comunque da mezzala. Da mediano non è la sua. Cioè, lui ha 23 anni, è un giocatore dinamico, è forte, è interessante. E per questo io penso che possa, insomma, giocare un po' più avanti. Krunic, che comunque gioca sulla tre quarti, ha dimostrato di saper fare tranquillamente il mediano. E quindi lo terrei. Mentre Franks penso che torni a casa. Qui però il Milan potrebbe prendere un titolarissimo. Perché dico questo? Perché in questo momento Benasera innanzitutto è rotto. Ma poi aggiungo pure che quando tornerà, soprattutto nelle ultime uscite, il Milan aveva pensato principalmente di far giocare Benasera da finto tre quartista. Finto tre quartista in modo che non agiva da fantasista, ma andava a sopperire alla creatività, all'impostazione del gioco da parte del vertice basso della squadra avversaria. L'ha fatto con Lobotka, ha provato a farlo con Cialanoglu e poi Brozovic. Anzi Brozovic no, perché poi speraccio si è fatto male tra l'ingresso che c'era Cialanoglu e che è uscito per far entrare Brozovic. E quindi io credo che Krunic rimarrà, Benasera rimarrà, Tonali rimarrà, ma qui il Milan, un centrocampista, deve prenderlo necessariamente. Poi c'è la grana tre quartisti. La grana tre quartisti è riferita a tre nomi che per me sono tutti grandi dubbi. Il primo è Brahim Diaz. E voi direte, che dubbio è Brahim Diaz? Brahim Diaz per me è veramente forte, cioè in questo momento Brahim Diaz, il Milan dovrebbe tenerlo. Comunque ha fatto sei gol e sei assist in campionato, si è fatto vedere, ha segnato anche una marcatura tra l'altro in Champions League. Il problema di Brahim Diaz è che il Milan deve ancora pagare 22 milioni di euro. Quindi ha pagati già tre, deve pagare 22. Il Milan li pagherà questi 22 milioni di euro? Io credo che dovrebbe farlo. Cioè io credo che il Milan un tre quartista forte come Brahim Diaz non ce l'ha. E tenerlo anche smantellando tutti gli altri, significherebbe poi, oggi faccio questa analisi, poi le andiamo a rivedere nel mercato del Frey, potrebbero chiaramente cambiare tutte, significherebbero poi andare a fare un'analisi, tipo quando torna a Benazè, Brahim Diaz può far panchina, però quando c'è Brahim Diaz, Brahim Diaz gioca. E se vuoi far riposare Brahim e Benazè non c'è o ti serve dietro, fai giocare Pobega sulla tre quarti. Perché Adli il campo non lo vede mai, quindi è meglio prestarlo. E' inutile che il Milan tenga Adli, cioè il Milan ha un sacco di giocatori inutili, ma non inutili perché sono scarsi, io penso che Adli sia un giocatore veramente interessante e forte, ma se tanto Pioli il campo non glielo fa vedere mai, per prendere Adli dal Bordeaux hanno fatto carte false, quelle e quell'altro, ricerche, percorsi, non finivano mai, poi all'improvviso hanno detto vabbè sai che c'è Adli, non lo faccio mai giocare, e vabbè. E poi c'è il caso De Ketelare, De Ketelare è stato pagato un botto, e questa è la pista in realtà che complica il riscatto di Brahim Diaz, perché riscattare Brahim vuol dire aver buttato chiaramente nel cesso i 32 milioni che il Milan ha speso per De Ketelare, e sono sicuro che De Ketelare esploderà, cioè io lo so, lo so per certo, perché è un giocatore che ce l'ha, in questo momento è diventato un meme, però ce l'ha, a parte che lo vorrei vedere magari con un po' più di, come posso dire, di costanza anche da punta, visto che tanto non sta rendendo in nessuna posizione che gli viene messa in campo, lui ha fatto, quest'anno ha fatto, una partita da seconda punta, due dalla destra e 25 da trequartista, lo vorrei vedere da punta centrale, sono curioso, visto che tanto Giroud deve riposare, visto che tanto Origi per me andrà via, poi là la punta andrà presa probabilmente, e tanto Ibrahimovic ha sempre rotto, perché insomma ha 41 anni, 42 anni, quanti ne ha, allora secondo me sarebbe forse il caso di provarlo punta, lo so che è una follia, però io è una cosa che farei, e questo ti permetterebbe anche di rinnovare Brahim Diaz, perché in quel caso avresti tutta la trequartista, Brahim e De Ketelare, ma De Ketelare può giurare anche da punta, ma sulla trequartista può giurare anche Benazare, quando torna nel frattempo può giurare anche Pobega, cioè dai quella imprevedibilità, che secondo me il Milan ha bisogno di avere, piuttosto che avere solo giocatori che fanno un ruolo e basta, devi avere tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sanno fare tanti ruoli, che per me questo è un nodo cruciale, poi passiamo alle due fasce, a sinistra Leao non si tocca, ma Rebic secondo me, è vero che era buono perché Potagiare si ala, si apunta, ma ha fallito ragazzi, ha fallito miseramente, sono mesi che non fa il Rebic, quindi per me è chiaro come il Milan possa anche pensare di cederlo, e poi dall'altra parte il Milan c'ha tanta mediocrità, perché Selmequer e Messias sono dei buoni giocatori, soprattutto Selmequer, ma secondo me non sono i, come posso dire, i calciatori adatti, i calciatori adatti a fare la fascia destra titolare, in un Milan che vuole vincerlo Scudetto, lo hanno fatto l'anno scorso, però comunque adesso devono fare quell'upgrade lì a destra, io una alla destra la prenderei, poi davanti è l'utile che ci concentriamo, l'abbiamo già detto Giroux, però c'è Ulrichi e Ibrahimović, per quanto riguarda gli acquisti in entrata, si è parlato di Milinkovic e Savic, per me sarebbe l'acquisto ideale, per me è difficile, molto difficile, io credo che se Milinkovic lascia la Lazio, lo fa per andare all'estero, è l'utile che lascia la Lazio per andare al Milan, perdonatemi, cioè è una cazzata, anche perché la Lazio è arrivata anche sopra il Milan, va a fare anche la Champions League, cioè quindi perché dovrebbe lasciare la Lazio per andare al Milan, per poi essere ritenuto magari un bidone se sbaglia una stagione, eh ci avete dato un pacco, ragazzi Milinkovic ha 28 anni, a 28 anni ti rovini la carriera se ti danno del pacco al Milan, allora tanto vale a mio avviso o rimanere alla Lazio o andare all'estero, si parla tanto di Milinkovic al Milan, io dubito fortemente, però vedremo quello che succederà, per il Milan sarebbe un colpo pazzesco, mettere Milinkovic vicino a Tonale al centrocampo a due, e poi Benazè metterlo sulla tre quarti, quando torna e alternarlo con Ebrahim o con De Ketelare, poi c'è il discorso di un altro mediano, quindi Florentino del Benfica, Florentino secondo me sarebbe un ottimo calciatore adattissimo al Milan, tra l'altro anche molto giovane perché ha 23 anni, quindi anche sotto questo punto di vista è in linea con quello che il Milan chiede, ma soprattutto è un giocatore molto molto interessante, è di proprietà del Benfica, quest'anno ha fatto comunque discretamente bene, ha collezionato addirittura 53 presenze, non vi aspettate che è un giocatore che possa magari svoltarvi la vita, è un giocatore abbastanza fisico, che ha alto 1,85 m, è grosso, è elegante, è portoghese, l'abbiamo visto, io credo che comunque possa fare molto comodo, anche perché lui sarebbe un mediano puro, quindi magari a differenza di un Milinkovic-Savic, che comunque è un giocatore forte, perché molto forte, però non è un mediano, ecco, Florentino sarebbe un mediano. Poi si è parlato di Amin Adli, e questa cosa mi ha fatto molto molto ridere, perché il Milan forse sta cercando di collezionare gli Adli, per avere più Adli possibili da tenere in panchina. Il Leverkusen ha pagato circa 7 milioni per prendere questo Adli, è un ottimo calciatore, ha giocato tanto quest'anno, ha segnato anche abbastanza per essere comunque, vabbè, in realtà è un'ala, però è un'ala sinistra, però non è un'ala sinistra che ha giocato titolare sempre, e anzi, il Leverkusen ha ottimi giocatori su quelle due fasce, ha fatto 5 gol e 5 assist, è un buon giocatore, però visto che di Adli ce n'hanno già uno e non gioca mai, io eviterei. Poi si è parlato di Marco Arnautovic, allora, su Marco Arnautovic è nutro dei dubbi, io credo che sia un ottimo calciatore, e io credo che ci sia veramente tanto sotto Arnautovic, la cosa che però non capisco è che Arnautovic ha 34 anni, cioè quindi la tua idea è quella di mettere Arnautovic in un attacco con, 34 anni, in un attacco con Giroud 36 e Ibrahimovic 41, cioè tra l'altro 34 anni abbassa la media, perché è pazzesco tra l'altro, cioè tu avresti circa 34, 36 e 41, poi ci darebbero le tue tre punte, per me è impensabile, cioè Arnautovic è un buon giocatore, ma hai già Giroud per quel ruolo lì, prenderei un giovane, io prenderei un giovane, poi si è parlato di Walker, e anche qua secondo me è una cosa che ha poco senso, vi faccio proprio tutta la cernita, perché Walker, se non sbaglio, ha un Manchester adesso con Guardiola, gioca da braccetto di destra, e il Milan gioca senza braccetti, ma con la difesa a quattro, sarebbe forse l'ideale a destra per alternarsi con Calabria, però se non sbaglio non sta più giocando a destra, cioè quindi fa un acquisto in questo momento inutile, poi un altro nome è Said Benrahama, è un altro gran calciatore del West Ham, mi piace tanto, sta trascinando il West Ham a vincere la Conference League, ma mi auguro di no, comunque in finale di Conference League, è un giocatore che gioca su tutte e due le fasce, però anche qua, lui ha fatto molto bene, ha fatto 11 gol e 5 assist quest'anno, la cosa che fa di qua comprendere, è la scelta di prendere Benrahama, che è vero che ha giocato anche 5 volte, anzi 3 volte a destra, però regà questo è un ala sinistra, ha giocato 23 volte da ala sinistra, il 75 di partita ha fatto da ala sinistra, ma perché devi andare a prendere un ala sinistra, e c'è Leao, se ti serve un ala a destra, ecco anche Benrahama a me sembra una gran cagata, così come Lauriente, che è un altro gran calciatore, ma è un'altra ala sinistra, cioè lì tu sempre c'hai Leao, se mi dici, vendo Leao perché prendo Lauriente, perché comunque faccio quello che ha fatto il Napoli, con Signic Varaschelia, e risparmio, vendo Leao a 130, prendo Lauriente a 25 milioni, e poi mi ci rifaccio la squadra con quei 130, dico c'hai ragione, cioè c'hai ragione, puoi averci ragione, ma se lo prendi per metterlo a destra è una follia, si è parlato di un altro calciatore, ovvero un Dur, sempre del Benfica, sempre per il centrocampo, lui però sarebbe una scommessina, cioè lui è un 18enne, ha fatto tanto, perché quest'anno c'è stato titolare con il Benfica, gioco sempre da centrale, non da mediano, ecco forse questa sarebbe l'unica pecca di avere Sharon Dur, è che più che un giocatore come, 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 come Franks, sarebbe un giocatore, diciamo come Popega, cioè lui ha giocato 20 partite da centrocampista, e 10 da trequartista, ha giocato, ha seguito anche discretamente tanto, perché ha fatto 4 gol per un ragazzino di 18 anni, non è, non è poco, andrebbe a sostituire la quota giovane del Milan, qualora dovesse arrivare, però è un giocatore che ti costiccherà quei, forse, forse vai scadenza a Dur, devo controllare, anzi, ora ve lo dico subito, però comunque al di là di questo, io credo che al momento il Milan si va in scadenza, il Milan non avrebbe bisogno di questo, cioè certo se lo prendi a zero è buono, poi, poi, poi si è parlato di Loftus-Cic, su Loftus-Cic ci sono un po' tutti, e io penso che insomma Loftus-Cic sia un buon calciatore, calciatore interessante, l'unica cosa che un po' mi blocca del discorso relativo a Loftus-Cic è che forse non è quel titolarissimo che serve al Milan, il Milan potrebbe forse provare qualcos'altro rispetto a Loftus-Cic per le qualità che la squadra rossondera deve avere, lui è un giocatore che ha giocato anche poco quest'anno, ha relativamente poco al Chelsea, la cosa positiva a differenza degli altri è che sa fare il mediano, però ripeto anche quest'anno quanto ha giocato da mediano? 7 partite, è vero che poi ne ha fatti 8 da esterno a destra, 4 da centrocampista centrale, un giocatore assolutamente versatile, lo vedo però più per la Lazio di Sarri rispetto che per il Milan, si è parlato anche di Omo Bamidele del Norwich, che ha giocato in Serie B inglese quest'anno, ha 20 anni, è molto molto giovane, è molto molto interessante, andrebbero a pagare una decina di milioni di euro, un difensore centrale, forse va bene per il post-kier, però al momento si è messo bene, a meno che non vuoi uno numerico che ti sostituisca gabbia, allora mi va bene, non capirai la mossa, e poi per concludere, vi faccio il nome di Alvaro Morata, nome di Alvaro Morata che mi incuriosirebbe particolarmente, so solo però che Morata ha comunque 30 anni, quindi è un'altra analisi che va fatta su un altro giocatore, che non è un bambino assolutamente, che insomma ti costerebbe una cifra abbastanza esosa, per quello che poi è il calcio mercato del Milan, fatemi sapere la vostra, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buo ce l'alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.